Buona mattinata a voi tutti, buona giornata, grazie per la presenza soprattutto a Sonia Bergamaschi e Manuela Arciuli. Abbiamo pensato di collegarci con loro perché vista l'impossibilità lunedì prossimo di averli sul palcoscenico del Miela, ma rimandiamo l'appuntamento così dal vivo in maggio perché in realtà una data l'abbiamo già condivisa con loro, il 31 maggio. A quel punto speriamo che ogni problema che adesso blocca il nostro settore sia quantomeno sulla strada della risoluzione o quantomeno ci siano delle indicazioni precise per quello che riguarda le sale. Noi saremmo assolutamente felici di tornare a un distanziamento come è successo alcuni mesi fa e ci permetteva certamente di avere quell'emozione, quel contatto con i musicisti, con gli artisti. Ovviamente il discorso era deficitario dal punto di vista economico, però almeno i nostri soci della Chamber Music, che sono tanti, in primo periodo in due tranche, cioè con due concerti e dopo con una sola tranche, con una sola presenza, siamo riusciti a soddisfarli. Quindi Emanuele e Sonia li aspettiamo a Trieste il 31 maggio. Premesso questo, ci piacerebbe molto avere un'idea di come è nato questo progetto del quale io avevo parlato a lungo con Emanuele, che parecchie volte è stato da noi nella nostra stagione, anche in duo pianistico come solista, poi è una persona che ci piace tanto, anche per la curiosità del suo repertorio. E quindi di curiosità in curiosità, effettivamente questo contatto e questo lavoro con Sonia Bergamasco ci ha subito coinvolti. Difatti era una data, questo 18 gennaio, che avevamo messo in calendario quanto tempo fa, tantissimo. E veramente è triste in questo momento, rendendo conto di non poterla realizzare, però con un sorriso guardiamo avanti. Allora, Emanuele e Sonia, da cosa nasce questo bellissimo vostro progetto che poi ci ha dato lo spunto per il titolo della stagione? Quindi questo era bellissimo, che i vostri contrapunti lunari sarebbe nata la nostra stagione 20-21, che si basa sul contrapunto, sui contrapunti in senso lato. Prego. Emanuele, Sonia, come volete. Beh, io ne ho già un po' parlato in conferenza stampa, come ricorderai, Fedra. Quindi forse mi piacerebbe che intanto ne parlasse Sonia, poi io integro delle cose, anche perché devo dire che questo progetto che segna una, come dire, la prosecuzione di una collaborazione artistica con Sonia, che è una cosa molto bella e molto stimolante, è un progetto che poi avrebbe visto la luce proprio a Trieste, nel senso che l'abbiamo già fatto, ma soltanto in streaming, e quindi eravamo molto contenti anche noi, naturalmente, di venire da te e io di ritrovare il pubblico di Trieste, a cui tu mi hai, con tanta generosità, diciamo, fatto affezionare, oltre che di ritrovare, appunto, la mia bellissima amica Fedra. Ecco. Allora, noi andremo a Trieste e andremo dal vivo e quindi questo è un appuntamento che ci aspetta e per continuare a parlare di questo nostro concerto, possiamo dire che nasce da proprio questi anni di collaborazione e da una curiosità condivisa, da una passione condivisa per la musica del Novecento e Duemila e quindi dal contemporaneo e dalle origini del contemporaneo. Ci siamo interrogati a lungo in questi anni su come strutturare, come architettare un concerto che non fosse solo un concerto, ma che rendesse conto anche proprio di questa nostra profonda curiosità, passione e anche dal desiderio di condividere col pubblico questa passione in una maniera nuova, in una maniera più aperta e quindi in una maniera dialogica. E per la prima volta, invece di partire da una musica, da un pezzo e da qualcosa di già scritto, siamo partiti dalla necessità di scrivere una sorta di traccia, di copione, di brogliaccio che poi nelle settimane, nei mesi, è diventato qualcosa che si è strutturato, è diventato un vero e proprio copione, possiamo dirlo Emanuele, che ci serviva unicamente da base per poi poter dialogare in estrema libertà avendo una traccia, una sorta di percorso, di viaggio, che è poi quello che noi facciamo da lo Schoenberg, amico comune, strano amico mio e di Emanuele, sin dai tempi del conservatorio, quando studiavamo, passando per Cage, Stockhausen, che sono diciamo i capisaldi, questo strano trio, e per arrivare ai nostri giorni. Ora, questi nomi spaventano anche un po', diciamo il pubblico non addentro alla lingua musicale del Novecento e dei nostri giorni. Ed è proprio per questo che noi volevamo parlare di loro e volevamo farli ascoltare, volevamo proprio entrare nelle tracce profonde che hanno segnato questi grandissimi autori musicali. Ed è stato un bel viaggio Emanuele, vero? Beh, ricordiamo che Sonia, lei l'ha accennato, è musicista, oltre che attrice. E quindi da musicista, diplomata in conservatorio, eccetera, ha avuto dei contatti anche suoi personali con i teatri, con i musicisti, eccetera. Quindi il vostro viaggio, perché magari non si pensa a questo, perché di Sonia si conoscono altri elementi della sua natura artistica. Ecco, questo certamente ha creato quel tridunion fra voi e poi ricordiamo anche molto bene quanto Emanuele sia un personaggio di riferimento nel mondo della musica contemporanea, delle esecuzioni di repertorio americano. Ecco, da noi anche è stato presente per questo repertorio, però oggi più che mai, come ha accennato Sonia, dato che il pubblico tende a voler ascoltare un po' sempre gli stessi repertori, riuscire a dare un viaggio come questo portati per mano attraverso questa passeggiata dedicata a certe poetiche e dedicata anche a certi musicisti, sia fondamentale. Per questo aspettiamo con ansia la vostra presenza, vero Emanuele? Sì, sì, ma noi infatti abbiamo intenzione di portare questo pubblico per mano, portarlo in un bosco e poi lasciarlo lì però, tappando, e poi se la vedono loro, insomma. Ma no, però c'è la luna, c'è la luna. Esatto, deve essere una cosa, diciamo, di paura, ecco, un film di paura, come dicevano. In realtà no, scherzi, amo. La musica contemporanea e la musica moderna, naturalmente, sono cose di cui spesso si parla in termini appunto di terrore, di paura, di disagio, però invece c'è tantissima musica che riesce ad essere immediatamente forte, potente, riesce a provocare immediatamente l'emozione, l'intelligenza e la creatività del pubblico. E soprattutto il pubblico non è soltanto quello che già frequenta i concerti. C'è un pubblico potenziale enorme, molto più ampio, ed è quello a cui noi cerchiamo di rivolgerci anche. Il pubblico che non c'è ancora. Questa situazione così paradossale, triste, difficile, ci ha messi tutti di fronte anche a delle cose che in fondo sapevamo, che però forse rimuovevamo, anche per pigrizia. Il mondo un pochino cambia, cambierà, ma era già cambiato prima. Ci sono forse anche delle esigenze nuove, diverse, e forse questa è la volta buona di approfittare, diciamo, di una cosa in realtà molto negativa. Approfittare non è il termine giusto, ma insomma di viverla in una maniera che sia positiva. Cioè cercare di trasformare questa cosa terribile che è successa, sta succedendo in questo periodo veramente in una grande sfida che possa poi portarci a recuperare il tempo perduto e a trovare appunto un nuovo pubblico, nuovi stimoli, nuove ragioni profonde del fare quello che facciamo. Sì, in effetti è stato così anche quando Reggio Emilia ha comunque voluto mantenere l'appuntamento del nostro concerto e offrirci il teatro vuoto e il palco del teatro con quattro telecamere che hanno ripreso il concerto da capo a fondo ci hanno offerto la possibilità, in questa maniera strana ma molto suggestiva, di mettere alla prova un concerto che debuttava, ha debuttato in effetti in una maniera che non ci saremmo mai aspettati, quindi una sorta di quasi di offerta televisiva che però si è dimostrata per noi anche coinvolgente e ricca di possibilità e ci ha dato la possibilità di riflettere sul nostro percorso, sulla struttura del concerto e ci ha fatto capire che questo concerto per come l'abbiamo architettato, per come l'abbiamo organizzato per la natura dialogica che ha, per cui passiamo da musica, riflessione, lettura di testi e di nuova musica esempi, anche con una buona dose di ironia che è per noi essenziale ci ha fatto capire che è un concerto modulare, un concerto che a Trieste non sarà lo stesso di quello che è stato a Reggio Emilia, possiamo aggiungere, togliere a seconda anche del contesto in cui ci troviamo e quindi ecco, è una miniera, proprio perché stiamo parlando di, diciamo, un secolo e mezzo quasi due secoli di storia musicale e quindi abbiamo un gran bel materiale Tra l'altro io vorrei dire una cosa, lavorare con Sonia per me è un'abitudine ormai è una bellissima abitudine, però in realtà il fatto che sia una cosa che si protrae nel tempo non toglie a questa cosa la sua grande stimolante bellezza perché Sonia, tu hai detto prima che io sono un pianista che fa tanta musica di oggi ti ringrazio le tue parole e ovviamente dà un senso al mio essere musicista lo stimolare la creatività dei compositori ma Sonia nasce, forse prima ancora che come attrice, che tutti conoscono come voce della musica contemporanea perché in realtà, avendo studiato non solo il pianoforte ma avendo studiato, come poi magari lei dirà, comunque anche, insomma, ha detto in altre occasioni con Gabriele Bartolomei, che è stata una delle voci storiche è diventata immediatamente, essendo tra l'altro, diciamo, evidentemente anche un intellettuale dando a questo termine però che è così antipatico invece un'accezione la più positiva che sia possibile è un'interlocutrice fantastica per i compositori e naturalmente lo è stata e lo è e lo sarà anche per me perché le scelte musicali sono sempre condivise in quanto sono fatte da due musicisti il fatto che poi Sonia sia soprattutto un'attrice e io invece purtroppo non sono un attore io ho solo un lavoro, diciamo così però devo dire che è una cosa che dà a questo concerto una patina speciale perché non c'è il musicista con l'attore ma ci sono due musicisti e una di questi due musicisti usa la voce come strumento musicale poi ci sono anche poesie di Sonia Sì, questo ha molto insistito Emanuele in verità ecco mi vorrei affrancare da questa cosa ha molto insistito anche se insomma ho pubblicato un libricino di poesie e Emanuele l'aveva letto molto tempo fa poi è nata l'occasione giusta e ci è sembrato il contesto giusto per poterle dire e poi parlate anche di luna, licantropia ci sono degli elementi nella descrizione del progetto a senso di humor ecco questo fa parte del vostro interagire nella vostra natura dialogica e questo sono convinta che si sposi perfettamente col discorso che avete fatto per cui la performance non sarà sempre uguale non sarà uguale a quella che è avvenuta a Reggio Emilia dove credo sia stato un debutto impressionante però perché adesso Sonia che è abituata alla televisione eccetera ma inaugurare una performance senza pubblico e sapendo che va a chi non si conosce, è impalpabile, no? Difficilissimo tutto sommato credo, però Infatti veramente eravamo molto emozionati anche perché poi pensavamo di montare il concerto e poi offrirlo in streaming e in effetti invece è stato proprio una testa praticamente perché non abbiamo tolto nulla ed era credo anche molto importante per mantenere la freschezza del rapporto tra di noi Questo è importantissimo tanto più in streaming, certamente Emanuele? Sì, è abbastanza terrorizzante l'idea di fare un concerto che diventa una specie di DVD e non puoi fare niente per correggere o per modificare le cose e non è una cosa che si vive nel Lick et Nunc del concerto ma poi rimane disponibile e c'è il ragazzino di Helsinki che magari sente il pezzo di Stockhausen e va a dire alla mamma guarda ha sbagliato una nota lì E' chiaro che tutto questo tutto questo appunto è uno scenario nuovo che poi andrà ripensato, metabolizzato e che sicuramente diventerà uno scenario anche più creativo secondo me Naturalmente i concerti devono continuare ad essere fatti in pubblico e possibilmente con un pubblico ampio perché anche la retorica del gesto la retorica concertistica è basata sulla presenza di un grande pubblico Noi altrimenti abbiamo un po' come l'impressione di aver fare un comizio in cucina Ecco voglio dire Cioè anche tutta quella gestualità quell'enfasi che esiste in un concerto pubblico se non hai il pubblico è difficile da ricreare è difficile anche perché l'attenzione del pubblico a casa è diversa da quella che può avere un teatro e perché un'attenzione ritualizzata e collettiva è una cosa diversa da un'attenzione individuale Ci sono tutta una serie di elementi che rendono il concerto una esperienza insostituibile e così dovrà continuare ad essere però che da essere una cosa un po' qualche volta un po' stanca in cui si andava a sentire questa solita menata diciamo così si possa invece fare una cosa completamente una cosa che sia veramente forte cioè una cosa unica che non sia come oggi paradossalmente era diventato quasi l'imitazione di un disco ma invece sia una cosa veramente unica in cui succeda qualche cosa di possibilmente memorabile o comunque qualche cosa di bello insomma che nasce al momento è frutto della creatività del momento esatto trovare la freschezza che c'è o c'era in tanti concerti di musica jazz per esempio trovare questa naturalezza questa creatività e anche da parte del pubblico questa naturalezza è una cosa che a me piacerebbe molto e noi promettiamo di farlo e noi abbiamo cercato poi di di rendere il più possibile diciamo palpitante il nostro percorso proprio offrendo un percorso personale personale nel senso che ci siamo ci siamo riconosciuti in certi incontri d'autore abbiamo riconosciuto che sia per Emanuele che per me erano stati gli incontri determinanti del percorso musicale e da questi siamo partiti per creare questo tessuto e siamo e poi grazie a Emanuele che ha chiesto all'amico Carlo Galante al compositore Carlo Galante una scrittura nuova per proprio per il concerto che noi stavamo organizzando è nato anche un melologo nuovo scritto per Emanuele e per me che si intitola Chiari di Lupo e appartiene a quella zona ironica come si evince dal titolo a cominciare dal titolo insomma che è molto molto importante e molto suggestiva e che ci aiuta forse a a cavalcare il presente in maniera più più diretta e Chiari di Lupo si è per me in particolare è un pezzo che sono affezionata perché c'è un momento di ululato che che mi dà la possibilità di liberare liberare il lupo che ha in me ecco mi pare giusto bello bellissimo beh mi pare che è venuto fuori totalmente questo aspetto creativo della performance e quindi a maggior ragione la attendiamo con ansia è bellissima l'idea di partire di avere questo filo rouge legato alla luna alla luna che ha tanti aspetti per tutti noi cioè il fatto che sia più misteriosa il fatto che si riesca ognuno di noi la svela in maniera diversa quindi anche per voi è stato uno stimolo assoluto pensare di muoversi nell'ambito di quello che è un discorso lunare vero? Sì Emanuele Sì sì no certamente lo è stato perché appunto volevamo evitare ma non c'era neanche bisogno di dircelo l'immagine più vieta diciamo della luna e volevamo evitare una cosa che fosse così fatta giusto perché l'anno scorso c'era anche da celebrare l'allunaggio eccetera volevamo fare qualche cosa che fosse appunto nelle nostre corde e credo crediamo di esserci di esserci riusciti poi insomma questo lo vedrete anche voi ma comunque in ogni caso la luna continua ad essere un elemento estremamente creativo per i compositori per cui questo work in progress che è il nostro programma potrà arricchirsi poi appunto di ulteriori contributi riflessioni anche nostre perché c'è un'enorme quantità di materiale letterario poetico e musicale per cui sicuramente è così vorrei poi tra l'altro fare una cosa che Sonia mi aveva proibito di fare ma io vorrei farle gli auguri perché oggi è il suo compleanno evviva auguri Sonia Sonia mi dirà per questo ma io glielo ho detto proprio la giornata perfetta ecco tra l'altro tra l'altro appunto mi piace farglieli non glieli ho mai fatti via zoom e quindi è sempre una prima volta auguri Sonia grazie grazie comunque ecco questo viaggio sulla luna andata e ritorno per noi era un viaggio anche simbolico un viaggio in territori conosciuti ma misteriosi anche avvolti da da un da una leggenda anche negativa cioè abbiamo voluto vedere anche questa leggenda che però ha anche dati di realtà di una musica difficile di una musica lontana dal pubblico abbiamo voluto cercare di avvicinarla avvicinare avvicinare il pubblico e avvicinarci a questo problema a questo problema così affascinante e diciamo partiamo da Schoenberg e atterriamo poi sulla luna insieme ad Ariosto da Stolfo che che ritrova il senno e e torniamo a casa in questo modo bellissimo io vi ringrazio se qualcuno ha qualche domanda per quanto mi riguarda mi pare che sia venuto fuori tutto il bellissimo percorso la spinta che vi ha portati a questo e anche così la passione questo è un elemento per noi per me per noi musicisti sul quale restiamo assolutamente ancorati come pure gli attori grazie a tutti